buongiorno benvenuti a questa resegna stampa di oggi primo ottobre vediamo subito che cosa è successo sui giornali anzi lo sapete benissimo cosa è successo sui giornali perché avete seguito numerosi quarta repubblica ieri vi ringrazio tutti quanti ma il punto fondamentale che sui giornali oggi buongiorno gerardo il primo ad arrivare qua sulla diretta di facebook sui giornali luca donadel grandissimo che io seguo uno degli influencer più seri della rete raffaella appena arrivata insomma che cosa è successo sui giornali sui giornali è successo che si è parlato del nulla assoluto cosmico perché si è parlato nulla cosmico anch'io ieri sera ho parlato nulla cosmico anzi ho parlato del nulla più nulla più nulla del cosmico però cercheremo di capire che cos'è questa famosa nadef oggi interpretando tutti quanti i giornali oggi è quasi più interessante vedere i titoli del giornale per capire l'atteggiamento nei confronti del governo che leggere i giornali per capire quello che ha fatto il governo perché è totalmente incomprensibile il nadef sostanzialmente è una cornice di politica economica che vale per i prossimi tre anni che cosa dice il nadef di oggi il nadef approvato ieri sera poi ci sono tutti quanti retroscene sui giornali sul fatto che i renziani hanno litigato col pd insomma il solito renzi all'interno del se metti renzi in una stanza oltre a essere più figo del bigongio deve litigare con tutti anche quando ha ragione come aveva ragione questa volta ma qual è il punto fondamentale di questo nadef che stabilisce i cosiddetti saldi di finanza pubblica il primo saldo è il deficit cioè quanto spenderemo più di quanto avremo come entrate il deficit è fissato al 2,2 per cento e già qui c'è la prima notazione uno che alzasse il ditino oggi sui giornali dicesse ma scusate l'anno scorso quei cattivoni gli hanno fatto un mazzo così perché erano fatto il deficit volevano fare il deficit 2 3 2 4 e poi l'hanno fatto al 2,04 come è possibile che quest'anno fanno fare un deficit superiore rispetto a quello dell'anno scorso e tutti zitti e muti non c'è l'europa non c'è furbini non ci sono giallisina che scrivono state facendo troppe spese per la verità l'unico a farlo correttamente cottarelli che ieri come oggi dice ragazzi qua se non diminuite la spesa pubblica non ci sarà mai ripresa ma è l'unico a farlo quindi primo dato il deficit aumenta rispetto all'anno scorso tant'è che il ministro dell'economia dice ci siamo presi tutta la flessibilità che potevamo vi rendete conto che l'elemento che l'anno scorso quest'ora era dirimente perché c'erano i cattivi schivosi deleghisti oggi se ne fottono tutti l'altra questione straordinaria è che hanno disinnescato queste clausole di salvaguardia che avrebbero portato al primo gennaio del 2020 maggiori tasse in termini di iva sia al 10 sia al 22 per cento queste tasse in più ogni anno le abbiamo le queste clausole di salvaguardia l'anno scorso le avevano aumentate di 4 miliardi ed eravamo arrivati a una montagna a una palla di neve da 23 miliardi quindi su una manovra da 30 miliardi come titola correttamente oggi il sole 24 ore solo 23 se ne vanno per evitare questo aumento delle tasse altri 7 dove vanno a finire secondo quello che scrivono i giornali tutti quanti i giornali due e mezzo di questi sette andranno a ridurre il cuneo fiscale cioè a quanto entra in busta paga netto i dipendenti ma questo soltanto da luglio altri due e mezzo e siamo a 5 di 7 andranno per spese non so i militari le missioni all'estero quelle spese che non si possono rimandare avanzano due miliardini che verranno non si capisce ben come distribuiti d'altronde non è nel nadef che si stabiliscono queste cose ma nella prossima manovra finanziaria e qui casca l'asino la prossima manovra finanziaria secondo quello che leggo sui giornali verrà verrà fatta da 23 23 decreti legge o disegni di legge collegati 23 e là c'è il mondo il tempo oggi per esempio titola ma non è solo il tempo anche il giornale se ne accorge nel pezzo di giammaria de francesco che uno di questi 23 sapete che cos'è revisione delle rendite catastali il che vuol dire che se faranno la revisione delle rendite catastali sostanzialmente aumenteranno le tasse senza dirlo vi spiego come funziona se io pago l'1,9 per mille sul mio appartamento seconda casa terza casa quello che cacchio volete voi e l'appartamento vale 100 io pago una certa tassa se io pago l'1,9 per mille ma su un appartamento che non vale 100 ma che vale 200 perché mi l'hanno revisionato ovviamente la tassa è la doppia quindi senza dirlo potrebbero aumentare le tasse ma il vero bandolo della matassa lo trova Andrea Bassi sul messaggero che su questa materia secondo me è il più chiaro di tutti e che cosa dice Andrea Bassi che questo governo da una parte vi ho detto come spende i 30 miliardi di cui 23 per disinnescare appunto gli aumenti dell'iva gli altri 30 miliardi come li trova facendo deficit e soprattutto 7 miliardi con questa voce lotta all'evasione si tratta di una pernacchia di una minchiata di una cassetta in cui lo deve dire ma che state dicendo cioè l'anno scorso l'Europa gli avrebbe detto ragazzi ma vi siete bevuti il cervello cioè cambiate pusher 7 miliardi di lotta all'evasione in un anno sono impossibili lo split payment che quella rottura di balle che introdusse Renzi e ancora la fattura elettronica che fu introdotta sempre dal solito Renzi poi implementata da questo governo beh quelle manovre danno se no un miliardo e mezzo due miliardi all'anno e sono manovre invasive nella vita dei cittadini 7 miliardi all'anno non arriveranno mai mai dalla lotta all'evasione fiscale e quindi dice giustamente bassi in realtà in quei 7 miliardi c'è di tutto e quello che io dico e che loro non dicono è che in quei 7 miliardi ci saranno gli aumenti delle imposte e cioè la possibilità che avrà e si tiene il governo di finanziare con maggiori imposte la sua spesa pubblica ma questo tema ovviamente non è che lo dico soltanto io oltre 8 miliardi di tasse è ciò che individua il giornale 7 verranno da questa lotta all'evasione che non sarà banalmente una lotta all'evasione ma ti faranno che vi posso dire secondo voi secondo voi oggi il Corriere un po' lo dice secondo voi eliminare la possibilità di togliersi le ristrutturazioni edilizie per una certa fascia di popolazione cos'è questo un aumento delle tasse secondo voi rendere più caro il gasolio che cos'è un aumento delle tasse ecco sono due o tre delle cosette che già sui giornali oggi si percepiscono staremo a vedere sulla manovra se arriveranno però è evidente già da questo nadef che 7 miliardi di lotta all'evasione manco ma zingazzetta li può prendere non è mai successo di lotta all'evasione incrementale rispetto a quella che si fa ogni anno quindi è una minchiata in realtà il messaggero è invece fa un passo indietro e dice va bene diciamo pure che ci sono questi 7 miliardi ma dice mancano comunque 5 miliardi di coperture e su questa roba qui insomma si può dire poco su quello che fa questo governo perché ancora non è chiarissimo françoise buongiorno alexander buongiorno non si può dire ancora niente non si possono dare giudizi ed è vero che questo governo eredita queste clausole di salvaguardia da quello precedente come quello precedente le aveva ereditate da quello precedente cioè è un'eredità diciamo di quelle che tu non vorresti accettare se vostro padre vi dice vi do questa eredità rinuncio all'eredità ma non si può rinunciare purtroppo l'altra questione fondamentale che politicamente il governo è stradiviso oggi un'intervista a marattina il capo l'economista che fa parte della delegazione di rezziani dice non ha senso aumentare l'iva a gennaio come voleva il pd per ridurre a luglio il curio fiscale come voleva il pd si tratta di una minchiata tant'è che non è passata ma insomma questo dà il tono di un governo che sembra molto diviso altri due tre temi e poi lascio perdere perché insomma la giornata è lunga buongiorno laura vedo che anche tantissimi su instagram simone come sempre ti vedo anche su instagram grazie per essere collegato con noi sandra buongiorno allora le altre due cose sono incredibili voi mi dovete spiegare in quale paese del mondo ci può essere è vero che c'è cipolla che ci ha spiegato la legge sui cretini ma l'arcivescovo di bologna l'arcivescovo di bologna appena nominato cardinale vuole fare la festa del patrono di bologna con i tortellini a base di pollo perché vuole rispettare le altre religioni allora secondo voi secondo voi un credente un cattolico un cristiano uno che ha anche un totale ateo che è nato a bologna che si è sempre mangiato i tortellini con dentro la mortadella il maiale e quello che c'è cosa deve pensare dell'arcivescovo di bologna cosa devi pensare cioè quando tu mi dici che devi cambiare i tortellini perché c'è qualcuno che i tortellini non li vuole mangiare col maiale dici sai che c'è di nuovo il tortellino col maiale non te lo mangi vai a prenderti una fiesta che peraltro è molto buona finché non la tassano non ci rompere i coglioni ma è una cosa normale ma tu non puoi cambiare i tortellini ma l'arcivescovo di bologna ma che cosa c'ha nel cervello nel fare la festa del patrono ma allora perché facciamo la festa del patrono arcivescovo di bologna toc toc perché facciamo la festa del patrono me lo vuoi spiegare io voglio capire perché l'arcivescovo di bologna che fa i tortellini col pollo vuole fare la festa del patrono non è non è comprensibile i patroni che cazzo sono ma chi se ne frega del padrone di bologna no ma chi se ne frega anche dell'arcivescovo mettiti in jeans e vai a fare i tortellini sfogliati col pollo questo deve fare l'arcivescovo di bologna non il cardinale un principe della chiesa con la crociona non fare il cardinale vai fai il missionario gesuita nel congo e mangi tutto il pollo che vuoi ma non rompere i coglioni con i tortellini ma io lo dico perché quando vedi questa roba qua dici a me non me ne frega niente poi io il tortellino lo mangio me mangio pure delle schifezze che non avete idea ma se tu fai la festa del padrono e non vuoi il tortellino col maiale vuol dire che tu sei un uno sconnesso un po come il ministro dell'istituzione fioramonti questa roba qui ovviamente sui giornali c'è poco se ne è accorto ovviamente come sempre michele brambilla che è il direttore del quotidiano nazionale che l'ha messa bene in evidenza questa vicenda poi c'è una pagina sul corriere ma diciamo pagina 30 ma è una di quelle notizie che hanno quasi più senso rispetto a quelle che ci sono in prima pagina oggi su tutti i giornali del ministro dell'istituzione che è diventato ormai poveraccio è il bersaglio il nuovo toninelli che ha detto che vuole nelle aule non più il crocefisso e non più la foto di mattarella ma una cartina geografica un altro voglio dire che dobbiamo metterlo allora dobbiamo mettere fioramonti con l'arcivesco di bologna li mettiamo insieme in una stanza e parlate parlate poi bisognerebbe prendere una telecamera bisognerebbe chiedere alla mia amica barbara d'urso di riprenderli 24 ore al giorno non è il grande fratello sono i due grandi fratelli per non dire altro tu prendi toninelli l'arcivesco di bologna io vorrei suggerirlo a pier silvio berlusconi pier silvio devi fare una cosa molto semplice prendi ma poi non c'è neanche bisogno forse il conduttore prendi questi due li metti in una stanza e dici pensate ragionate e raccontate quello che vi viene in mente arcivescovo di bologna del tortellino e ministro dell'istituzione fioramonti fate facciamo un programma da 500 per cento poi arrivando a cosa serie l'intervista olga d'antona molto signora questa olga d'antona una signora che voi ve la leggete oggi su correde della sera fa un'intervista dignitosissima in cui dice io non voglio incontrare la terrorista che ha ucciso mio marito nel 99 ma trovo che questa legge che dà il regno di cittadinanza a una che sta in carta che una agli arresti domiciliari che ha ucciso mio marito che c'è la famiglia che gli ha sempre pagato e che l'ha supportata è una cosa che io non considero giusta non è non ha una grande simpatia questa signora per la politica di salvini che dice invece di fare l'aventino facesse un ordine del giorno e ha perfettamente ragione olga d'antona non serve fare l'aventino salvini fai un ordine al giorno in cui dici di cambiare il regno cittadinanza che peraltro hai votato anche tu quella merda il regno cittadinanza l'hanno votato anche loro la verità oggi ci ricorda come se vale per la terrorista rossa che ha ucciso il marito di d'antona ovviamente ci saranno tanti altri stupratori ladri e assassini che hanno questo reddito di cittadinanza per darvi un po il senso di quello che è questa attenzione l'ultima cosa che vi segnalo è un'intervista molto bella a una campione di sanità che vendò adesso lo dico male un'arte marziale una molto scenografica questa ragazza è nata in russia e in prima pagina sulla repubblica dicono questa ragazza non riesce ad essere italiana insomma è nel filone use culture no ve lo sapete che adesso sta andando molto di moda come i voti sedicenni di cui neanche parlo perché insomma facciamolo non facciamolo non è questo il tema il tema fondamentale che in questo momento parlano di use culture e c'è la campionessa ha vinto due coppa italia è una bravissima ragazza che vorrebbe diventare italiana e quindi repubblica ne fa come un caso vedete non riesce a diventare italiana no no è una cazzata anche questa perché poi se leggete l'intervista questa signora ha detto io sono nato e sono arrivata qua da quando ho tre anni mi sento italiana non sono neanche residente russa voglio diventare italiana ho fatto richiesta come tutti quelli che vivono in italia a 18 anni alla prefettura di reggio emilia e sono tre anni che non mi risponde allora cari amici della prefettura di reggio emilia cari amici progressisti il problema non è il use culture e lo use soli e che magari una cazzo di prefettura quando riceve una lettera per ottenere questa ragazza la cittadinanza italiana che si è strameritata combattendo con la nostra maglia le arti marziali e attraverso i suoi meriti sportivi li ha date subito non passano tre cazzo di anni per dare la cittadinanza questo non è un problema di leggi è un problema di persone non è un problema di norme use culture è un problema della prefettura di reggio emilia di incartamenti di burocrazia cielo in cui viviamo in cui mi auguro questa ragazza che diventerà italiana vedrà cosa vuol dire la burocrazia italiana che peraltro ogni russo dovrebbe ben conoscere basterebbe che leggesse il castello di kafka e capirebbe come quella roba lì è quasi simile a quello che trova a reggio emilia in tutti i sensi in nella prefettura di reggio emilia direi che per oggi è tutto mi sono sfogato abbastanza buon tortellino al pollo a tutti quanti voi